buongiorno buona epifania a tutti come promesso ben ritrovate sul mio canale sono sempre io gabriella e vi sto inquadrando la mia bella composizione giusto per ricordarvi che natale ormai alle porte è finito però non importa oggi è la befana napoli diciamo sempre buona epifania tutte le feste porta via quindi ragazze ritorniamo al lavoro bene perché questo video oggi perché come promesso nel video precedente chi avesse commentato sotto a quel video aveva la possibilità di partecipare all'estrazione di un premio benissimo quindi oggi procederemo proprio a fare ciò spostiamo sulla destra vedete i libri di martina che fa finta di studiare ma realtà ridi a crepapelle non si vede matti un po più qui ecco martina più giù continua vibra piano marty più giù più giù ecco le manine di martina col pigiama niente passo con l'inquadrarvi tutti i partecipanti non fate caso alla mia agendina eccoli qui spero che vediate il vostro numero spero di non aver fatto casini come mio solito martina che continua a ridere marty vuoi dire qualcosa daniela piccolo manipolarte terribi carri vicari lucrezia nappi chistina cabrielli marilena radaelli vabbè ragazze guardateveli tutti penso che ci siate in tutto 42 c'è stato veramente un commento di teresa di lallo da quest'altro dal 23 tana trovato marusca 73 in tutto 42 rinquadro nuovamente è stata brava questa volta ordinata c'è stato anche un commento al video però oltre il 31 dicembre e quindi per correttezza verso le altre monica mi dispiace non ti ho assegnato un numeretto sarà sicuramente per la prossima volta allora giusto per farvi capire chi sono io nel periodo natalizio tada questa sono io gabriella oddio se girassi la fotocamera vedreste uno stato pietoso non ho il pigiama ma senza trucco e parrucco va bene basta direi abbiamo scherzato martina nel frattempo vera inquadrerei sta mangiando tutta la calza della befana perché ha deciso di mettere su un po di ciccetta perché fa bene un po di ciccia un po di cellulite non guasta mai scherzi a parte oggi sto provando il nuovo video chissà cosa ne verrà fuori allora ecco inquadrato inquadrato il mio vecchio telefonino che adesso andrà al macero si dice macero non lo so niente andrà distrutto comunque perché ormai non faceva neanche più gli aggiornamenti whatsapp allora quindi l'ultimo numero è stata assegnata a esenio moccano e quindi moccano i ragazzi voi mi dovete perdonare perché lo so che i nomi sono veramente pessima quindi mi dispiace se molti non indovino l'accento inglese francese straniero è quello che è però mi dispiace io vado sempre di getto quando faccio i video non è che ci sto più di tanto a pensare niente respiro perché sono stata agitata quindi ovviamente l'estrazione del premio sarà o una creazione del materiale creativo poi ci metteremo d'accordo privatamente niente io 142 digito e vediamo chi è la fortunata taratara 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 rullo di tamburi marty fai un rullo 24 24 chi è tania ha trovato tania cara sei tu la vincitrice non so se ti fa piacere spero di sì un regolino qualunque questo sia penso che sempre gradito niente allora tania ci contattiamo in privato poi mi direi tu se vuoi del material creativo se vuoi una mia creazione niente contentissima un bacio auguri alla vincitrice e niente auguri da me mi raccomando lavoro lavoro mi raccomando ragazze mettetevi a lavorare che il nuovo anno porterà porti a tutte quante voi tante belle cose speriamo che questo video sia venuto decente ciao marty niente buona giornata un bacio a tutti e buona epifania e buon weekend baci